Il derby di Serie D, Chions, Charlene Smuzzane con i padroni di casa che ritrovano la Serie D al Tesolin. C'è tanta gente, grande entusiasmo per la neopromossa squadra di Mister Barbieri che figurerà ancora molto bene contro il Charlene Smuzzane dopo averlo eliminato in Coppa. Parte bene la squadra di Parrato, Ciamma fa la sponda per Gentile, il difensore spinge in rete 1-0, un primo tempo equilibrato, non riesce però a trovare le conclusioni pericolose Charlene Smuzzane. Qua attento, Sgrablic su Fida, prende coraggio il Chions con De An, il suo sinistro è fermato da Bonucci, poi attenzione al Chions, palla sulla destra per Cucchisi. Il cross, Gentile, per anticipare l'attaccante, mette in rete di testa, autogol sul finale di tempo, pareggia il Chions 1-1, andiamo alla ripresa, grande, mischia in area, l'arbitro non fischia e qua Cianney Smuzzane va davvero vicino alla rete del vantaggio. Prima salva Kanaku, poi è decisivo Tosoni su Fasolo. E allora ecco il Chions, il cross di Valenta, il tocco di testa di Carella, ma poi soprattutto il colpo al volo di De Anna, 2-1, rivediamo il destro, Bonucci poteva fare di più, ancora De Anna, bravissimo gestire questo pallone, palla al centro e poi arriva Ibrahima che sigla un gol importantissimo, 3-1. Rivediamo quest'azione, De Anna riesce a liberarsi di Grassi, poi il tocco di Bonucci, ma soprattutto Ibrahima, velocità e potenza, anticipa Chiccaro e mette in rete la reazione del Cianney Smuzzane. Cross di Chiccaro, colpo di testa di Bussi, pallone fuori di poco, poi ancora cross dalla destra, Fasolo, stavolta di testa Bussi, mette in rete e accorcia le distanze 3-2. Altro cross dalla destra di Bassi, qua è decisivo, sempre su Bussi, Tosoni, niente 3-3 per il Cianney Smuzzane che ci prova anche su punizione, parte alta della traversa per Fida e allora la chiude il Chions in ripartenza, va via Bolgan, mette al centro per Valenta. Arriva Ciamma, è il secondo autogol della giornata, giornata esaltante per la neopromossa Chions, il Cianney Smuzzane di parlato e ancora fermo ai box.